Un cammino lungo, anzi lunghissimo attraverso l'Italia per promuovere il messaggio di emergency è quello di Roberto Gorini, il 53enne bolognese da anni stabilitosi in Sardegna. Da qualche anno la sua passione per le camminate lo ha portato a porsi degli obiettivi sempre più ambiziosi, in sostanza ad andare sempre più lontano. Ho già fatto il periplo della Sardegna nel maggio 2016, ci ha raccontato, poi un primo tentativo di Giro d'Italia a marzo 2017, ma un problema ad un ginocchio mi ha fermato. Ora ci riprovo ed in effetti la sua nuova ambiziosa avventura è cominciata una ventina di giorni fa, proprio dalla Sardegna. Con il logo di emergency su t-shirt e zaino, lungo il cammino sta incontrando i gruppi di volontari dell'Associazione Umanitaria fondata da Gino Strada. Tante le persone già incontrate lungo la strada, da alcune anche l'offerta di ospitalità per la notte. Da molti un semplice incoraggiamento che comunque fa piacere. Innanzitutto questo cammino è nato, diciamo come dire, un paio di anni fa e mi spinge il fatto che amo il cammino, ma soprattutto questo cammino ha uno scopo ben preciso, che è quello di promuovere emergency. Incontro gente fantastica, purtroppo ci sono anche cose negative, ma questo fa parte, diciamo, della nostra Italia, ma più che altro trovo molto affetto e veramente grandi persone. Un alledetto molto particolare è stato quando sono arrivato in Calabria, a Polistena, nel Polambulatorio di Emergency, con il mediatore culturale e un volontario. Abbiamo visitato la Tendopoli, diciamo, di San Verdinando, nella zona di Rosarno, dove c'è una situazione decisamente molto pesante. Questa, diciamo, se vogliamo, una parte, diciamo, di questo cammino. Cose belle, incontri magari di persone che mi hanno incontrato per strada e magari poi hanno deciso di inseguirmi, tra virgolette, e fare qualche chilometro con me. Per me è la prima volta, in realtà, che entro in Molise e l'ho trovato molto interessante, molto tranquillo. Ho preso la neve ieri, praticamente, salendo da Boiano verso Esernia, però il brutto tempo e il bel tempo fa parte del cammino. Roberto conta di concludere il suo viaggio ad Aosta. Dovrebbe arrivarvi a fine maggio. Chi volesse camminare con lui oppure offrirgli ospitalità può contattarlo inviando un messaggio privato alla pagina Facebook Cammino Libero.